Le masse paure sono state quelle di firmare un contratto e senza comunque avere nulla di personalizzato, quindi non ascoltare nulla di quello che ci potesse piacere o meno e non sorprendere né noi né le persone che ci sono intorno, quindi fare comunque la scelta sbagliata. Per me personalmente è servita a chiarire tanti tanti aspetti, io non sapevo quasi niente, diciamo, di questo... Come muoverci. Ora ho iniziato già a capire... Tipo che è necessario avere postazioni diverse, che è necessario di altre cose. Beh, soprattutto, sì, ti aiuta soprattutto a capire a cosa stare più attenti, come può funzionare, come non può funzionare. Sicuramente ci sono delle scelte importanti da fare e da queste scelte proviene poi un risultato che può essere positivo o negativo. Ma comunque, come tutte le altre cose, prevedono delle scelte. Quindi scegliere qualcuno che ti segua e che sia specializzato solo in questo campo oppure affidato comunque a qualcuno che lo fa, ma non per professione. Capire anche i punti d'incontro, i punti di differenza tra la coppia, quindi cosa può volere una e cosa può volere l'altro. Comunque essere sottoposte a domande in cui, penso, nessuno si vorrebbe. Quindi riuscire anche a capire da delle domande qualcosa che non ci si è mai chiesto, quindi cosa si vuole realmente o se quello che si sta facendo è giusto. L'aiuto di Michele è stato fondamentale anche perché ci ha guidato con tranquillità, con serenità e quindi sì, ci sono voluti i tempi giusti, però è stata comunque veramente una spalla adesso su cui contare. Si capiscono comunque i limiti e se realmente quello che si è disposti a ottenerlo, quindi se realmente dici, vabbè sì, voglio la testa travolgente, però in fondo poi non si è disposti a fare tante cose come mettersi in gioco, come aspettare, quindi la pazienza. Quindi si capisce anche tu, da sole si può capire se quello che fai è giusto o meno, quindi se l'obiettivo che vuoi raggiungere è quello che ho desiderato. Ho preparato in materia. Io non sapevo niente riguardo questo mondo. Un mondo nuovo, vorrei sapere già qualcosa di niente. Riusciamo a mettere insieme tanti punti e poi uscire a decidere anche con tutta tranquillità. Penso si possa conoscere anche la coppia da un altro lato, quindi anche sul lato della festa. Ma comunque sì, manca capire che anche la persona molto più chiusa possa aprirsi a un'idea del genere. Quindi lo consiglierei perché apro un mondo, apro un mondo che persone comuni non conoscono e che quindi comunque è utile, è utile oltre che bello. Sicuramente ti aiuta a conoscere la persona a cui ti stai affidando. Noi diciamo in parte oggi ti abbiamo conosciuto ed è una bella cosa, ci aiuta tanto. Perché ci tiene al successo della festa, ma questo è un po' come si può. Ma come che sia una guida nella vita, come che sia una guida nel viaggio, una guida è fondamentale in tutto. Quindi poi soprattutto una guida che lascia a farti vedere le cose che tu da solo non riusciresti a vedere. Quindi ti apre gli occhi, ti dice guarda fai così o fai così. Quindi è fondamentale penso. Sei confusa e non sai come scegliere la musica più giusta per il tuo matrimonio? Ti serve una mappa e una guida che ti aiuta a liberarti una volta per tutte dalla nebbia e dalla confusione. Clicca subito sul primo link in descrizione e scopri cosa ti serve affinché tu possa ricevere solo l'odio, entusiasta, ammirazione e complimenti da parte dei tuoi ospiti per la festa del tuo matrimonio. Ciao!